Buonasera a tutti e grazie mille di essere qua al Circo nonostante tra l'altro tutti i disguidi qua intorno. Siamo qui per presentare un podcast realizzato con la Fondazione Cesare Pavese e Cora Media dedicato a Cesare Pavese in particolare a Cinque Romanzi e ringrazio tantissimo il Circo dei lettori per l'ospitalità, ringrazio i relatori questa sera Pierluigi Vaccanio che è il direttore della Fondazione Cesare Pavese, Andrea Bosca attore e soprattutto originario delle stesse terre insomma da sto cielo Cesare Pavese perché originario di Canelli e Giulia Cavaliere che è autrice, giornalista, critica musicale e sia Andrea che Giulia hanno partecipato alla realizzazione del podcast. Il podcast, ah no vi devo ancora portare i saluti di Mario Calabresi che purtroppo non è presente, non è riuscito a venire questa sera quindi io rappresento io Cora Media, sono Francesca Berardi, sono una giornalista, sono appunto un'autrice anche a Cora Media e in questo podcast ho contribuito alla scrittura, la scrittura dei raccordi, la scelta appunto anche dei pezzi da leggere e affiancando Cesare Martinetti che anche qua ringrazio per il lavoro insieme. Il podcast è stato narrato da Neri Marco Re, quindi la voce narrante è quella di Neri Marco Re che si intervalla a quella appunto dei nostri autori che abbiamo intervistato ed è un podcast che è dedicato agli aspetti più vitali della scrittura di Pavese. Quello che volevamo fare con questo podcast era proprio cercare di rispondere alla domanda perché Pavese è ancora così e sempre, continua a essere sempre così amato anche da lettori delle giovani generazioni e soprattutto cercare di celebrare il modo in cui appunto la scrittura di Pavese riesce a interpretare le emozioni, i sentimenti anche più profondi, più forti, desideri, irrequietezze e insomma anche tutta questa fatica e questa ricerca di un posto nel mondo che sono tipici comunque di questo momento di passaggio tra l'adolescenza e la vita adulta che poi anche il periodo di vita di molti dei personaggi dei suoi romanzi. Io inizierei ascoltando un pezzettino di uno dei nostri podcast, la puntata è dedicata alla Bella Estate che è anche il podcast, anche scusate il romanzo da cui abbiamo preso ispirazione per il titolo, era sempre festa perché come saprete se siete lettori di Pavese era sempre festa è proprio l'incipit di La Bella Estate e per La Bella Estate abbiamo dialogato con Sabrina Fionai, scrittrice 24enne che aveva già lavorato con Cora alla realizzazione di un podcast dedicato al suo libro, La storia del mio nome, e che ha letto per la prima volta Pavese proprio per lavorare a questo progetto, per rispondere, insomma per dialogare con noi per questo progetto. Gli altri autori invece sono tutti grandi pavesiani, appassionati di Pavese e quindi ascolterei questo pezzettino. Ricordo le emozioni, ricordo la pelle calda, ricordo il mare perché io abito vicino al mare quindi ricordo benissimo le giornate passate in spiaggia e sembrava veramente durare tantissimo quei mesi erano infiniti eppure il sole di inizio autunno è una delle cose che mi porto dentro in maniera inderebile e indescrivibile. È una delle sensazioni che ricordo della mia adolescenza nella maniera veramente più sentita soprattutto quando non ti senti magari all'altezza di un bacio che sai che sta per arrivare e quando quel bacio arriva è scombussolato un po' tutti i piani. Anche La bella estate di Pavese, scritto nel 1940 ma pubblicato solo nel 1949, è un romanzo di piani che vengono scombussolati, traditi, di una festa destinata ad interrompersi all'improvviso, ma che vale la pena vivere fino in fondo. Io quell'energia lì l'ho sentita esattamente alla stessa età di Genia, a 16 anni, quando mi ero trasferita da Napoli a Castelvolturno ed è stato lì che ho iniziato ad incontrare il mio primo gruppo grande e ampio di amici e di amicizie e in quel contesto lì avevo la mia Amelia. Avevo questa ragazza che conosceva già tutti, che in qualche modo mi prende per mano tra i banchi di scuola e mi dice usciamo questo pomeriggio ed era un pomeriggio di fine primavera ed è lì passiamo insieme letteralmente tutta l'estate e tutti i giorni ed è lì che incontro la mia prima cotta, uno dei miei primissimi baci. Quella, per la scrittrice Sabrina Eiffionai, fu una bella estate, la sua bella estate, in cui si è sentita un po' come Genia, la protagonista della bella estate di Cesare Pavese. Bene, questo appunto era anche l'inizio della puntata dedicato alla bella estate, gli altri romanzi ve li dico, appunto c'è tutta la trilogia della bella estate, c'è la bella estate tra donne e sole e il diavolo sulle colline, poi abbiamo anche lavorato sulla luna e falò e Paesi tuoi. Io chiederei subito a Pierluigi se può raccontarci anche lui un po' la genesi, lo spirito di questo podcast, magari anche se c'è modo, agganciando anche questa sua risposta anche a quello che è appena successo, perché è appena tornato da New York dove c'è stato un distaccamento del festival pavese quest'anno. Beh sì, innanzitutto grazie a voi di essere qui questa sera. Beh, un po' l'hai già detto all'inizio del tuo intervento, quello che volevamo fare, l'obiettivo della Fondazione Pavese era quello di cercare di guardare allo scrittore cambiando punto di vista. Tutti quelli che sono qui in sala questa sera, che probabilmente hanno conosciuto Pavese, lo hanno amato, apprezzato e letto, sono figli di una cultura, di una critica letteraria che ha visto lo scrittore raccontato attraverso il filtro del suicidio, che è un filtro che ritengo essere non onesto nei confronti dello scrittore stesso, perché in Fondazione Pavese noi accogliamo tanti visitatori che vengono a visitare i luoghi, che vengono a vedere il nostro museo, le nostre collezioni, e la domanda ma perché si è suicidato viene sempre fuori. E credo che sia una domanda inutile da un certo punto di vista, un po' perché, credo che lo sappia solo lui, un po' perché non è affar nostro, non ce lo dobbiamo chiedere, non deve essere l'approccio che abbiamo nei confronti di uno scrittore che invece ci va a toccare delle corde, come diceva giustamente prima Francesca, che sono comune a tutti noi e sono corde di vita. Il filtro del suicidio purtroppo ha caratterizzato tanta narrazione attorno allo scrittore e credo che oggi, a più di 70 anni dalla sua scomparsa, siamo abbastanza maturi e abbastanza lontani da quell'evento funesto per poterlo guardare attraverso l'unica cosa che credo che sia davvero importante. E sono le cose che lui ci ha lasciato e sono le sue parole, e quindi i suoi romanzi, le sue opere. Se noi andiamo a leggere, e Pavese ce lo dice sempre, lo dice in uno dei suoi libri, nella Luna Ifalò, quando parla con Nuto, dice Nuto nei libri bisogna leggerci dentro. Se noi leggiamo dentro i libri che Pavese ci ha lasciato, troviamo dei ragazzi giovani, abbiamo sentito prima Sabrina che parlava di Gini e di Amelia, che sono sedicenni e diciottenni, insomma, sono ragazze che sono nel pieno del loro momento di passaggio da un'età adolescenziale, da un'età adulta, che ci ha caratterizzato tutti e che continua a caratterizzarci in ogni momento di cambiamento della nostra vita. Ecco, se noi andiamo a guardare ai protagonisti delle opere di Pavese, che sono i suoi personaggi, i suoi alter ego, Pavese diceva un'altra cosa molto significativa, nei saggi che ha scritto, raccontare è monotono, ma non noioso, è un continuo andare a battere sugli stessi temi, sperando che a forza di martellarli questi temi esplodano i loro significati. Ecco, Anguilla è Gini, è Amelia, è Cinto, è Clelia, è Oreste, è Piretto, è il diavolo Poli, Insomma, tutti i personaggi delle opere di Pavese hanno questa stessa funzione nel percorso di scrittura di Pavese e nel suo percorso intellettuale ed umano, ovvero cercare di andare a stimolare quell'epifania che fa sì che un momento di passaggio come quello dell'età adolescenziale e quello dell'adulta si manifesti in una serie di significati importanti e decisivi per la nostra crescita. Ecco, e quindi l'idea che abbiamo condiviso inizialmente con Mario Calabresi, con Cesare Martinetti, era esattamente questa, cioè andare, arrivare a Pavese attraverso i suoi personaggi, le cose che il suo testamento, la cosa che davvero lui ci ha lasciato, che ritengo essere quella più importante e veritiera per andare a raccontare lo scrittore. Se facciamo questo, non solo cambiamo punto di vista con cui guardiamo allo scrittore, facendo quello che ci ha insegnato Calvino nelle lezioni americane, nella prima lezione della leggerezza, dove dice che per uccidere la medusa non bisogna guardarla negli occhi, ma bisogna cercare la sua immagine riflessa in uno scudo o in uno specchio. Ecco, non guardiamo Pavese negli occhi e ci viene in mente, verrà la morte, verrà i tuoi occhi, che non è dedicata a Constance Doling, ma quegli occhi sono gli occhi di Pavese, che trova in quello sguardo, uno sguardo che ha perso forse la sua scommessa con il percorso esistenziale di ognuno di noi. Ecco, se torniamo a guardare lo scrittore da un altro punto di vista attraverso gli occhi dei suoi personaggi, proviamo tanta vita e troviamo soprattutto un compagno di viaggio, una nuova strada che possiamo così percorrere alla ricerca, che poi era quello che voleva Pavese. Pavese ha scritto i suoi romangi per se stesso e soprattutto per lasciare qualcosa a noi, una sorta di vademecum su come in un certo senso costruire la nostra vita, che è anche la costruzione di se stessi, un argomento molto puntuale su Pavese. Quindi se facciamo questo, riusciamo a trovare uno specchio. La letteratura di Pavese, come le sue colline, sono uno specchio trasparente dove vediamo le sue opere, vediamo le colline, vediamo la natura, ma soprattutto cerchiamo noi stessi. Ecco, Pavese è un amico, è un compagno di viaggio che ci permette di trovare noi stessi. Se riusciamo a lasciargli fare questo mestiere, un mestiere di vivere, probabilmente abbiamo qualcosa di veramente prezioso. La letteratura in generale è preziosissima e adesso stasera parliamo di Pavese, quindi quella di Pavese è altrettanto preziosa. Tornando all'America, infatti, se sono poco lucido è perché ho un po' di jet lag ancora nelle vene, è stata una bellissima avventura. Quest'anno abbiamo chiuso il Pavese Festival che è iniziato appunto ad inizio settembre e abbiamo chiuso il 27 con questo evento americano che ha voluto andare ad omaggiare quello che sta alla base di tutte le opere dello scrittore, perché noi conosciamo Pavese come scrittore, come poeta. In realtà Pavese è un traduttore che ha utilizzato ciò che ha imparato sulla letteratura americana e inglese che ha tradotto di nuovo da ventenne quando non aveva neanche gli strumenti. Oggi buttiamo dentro un testo a chat GPT e più o meno in qualche millesimo di secondo ce lo traduce in tutte le lingue del pianeta. Pavese traduceva dall'inglese senza dizionari e ha imparato da solo da autodidatta attorno ai vent'anni. Ecco, abbiamo parlato del Pavese traduttore perché nel 2022, grazie ad una famiglia torinese che la famiglia Molina, Oreste Molina era collega di lavoro di Pavese, era il responsabile della tipografia e in Audi Pavese era il direttore editoriale. Oreste Molina aveva conservato una serie di testi di letteratura inglese americana che Pavese aveva commentato, sottolineato, appuntato, insomma, segnato come un traduttore che sta lavorando sulla lingua fa nei confronti di un testo. Poi ognuno ha le sue abitudini quando legge e sottolinea con la biro, con la penna, con la matita. Pavese, insomma, ha fatto questo mestiere abbastanza anche vigorosamente, quindi questi testi sono davvero molto segnati. Oreste Molina ovviamente non c'è più, ho conosciuto il figlio Stefano, il quale ha adorato alla Fondazione Pavese questi testi che hanno immediatamente, sono stati studiati da Yuri Moscardi che insegna letteratura italiana alla City University di New York, ha pubblicato questa ricerca su rivista scientifica che è uscita esattamente il 27 di settembre e l'abbiamo presentata con un panel di traduttori tra cui Giun Palairi, premio Pulitzer, traduttrice, scrittrice che ha davvero, andatevelo a cercare su YouTube, sul canale della Casa Italiana Zerilli Marimò perché ha fatto un intervento sullo scrittore eccezionale dove ho imparato tanto su Pavese grazie al suo intervento, Brian Moore che è un altro traduttore, Yuri Moscardi stesso e poi abbiamo consegnato il premio Pavese per la saggistica alla professoressa Rosemary Salomone che quest'anno appunto si è aggiudicata il premio sulla saggistica per il suo lavoro fatto sullo sviluppo della lingua americana, della lingua inglese nel mondo, Rise of English. Quindi questo è stato l'appendice del festival dove abbiamo parlato del Pavese traduttore in generale attraverso questa ricerca che Yuri Moscardi ha condotto sui testi che oggi sono presenti in Fondazione Pavese che adesso fanno parte di una mostra e quindi sono, li potete, se venite a Santo Stefano Belbo, se avete occasione di fare un giro sotto la luna di Pavese avete l'opportunità di vedere questi testi che sono attualmente in mostra assieme a delle prime edizioni dello scrittore e prime edizioni anche di Italo Calvino, quest'anno è il centenario della nascita di Calvino, quindi questi testi ci hanno condotto alla New York University, la casa italiana Zerilli Marimò, dove abbiamo presentato questo evento, appunto questa donazione, la ricerca che è stata fatta sulla donazione. La cosa che mi ha stupito maggiormente è che l'interesse in America, negli Stati Uniti, su Pavese, non è vivo, è vivissimo. avevamo questo evento in una sala un po' più grande di questa ed era strapieno, c'era la coda fuori, quindi insomma New York un po' di competizione sugli eventi c'è, non è proprio Santo Stefano Belbo, quasi eh, però insomma poco ci manca e quindi mi ha stupito vedere questa passione, questo amore nei confronti di uno scrittore e anche l'interesse vivo della New York University che è immediatamente sollecitata sul fatto che la fondazione avesse acquisito questi inediti e che fosse nato una ricerca scientifica immediatamente ha accolto il nostro progetto e ci ha ospitati in un bellissimo evento. Quindi ormai la strada è aperta, dunque abbiamo portato Pavese dove lui avrebbe sempre voluto andare e purtroppo non è mai riuscito ad andarci fisicamente ma a livello intellettuale altro che se c'è stato. Giusto, l'avete portato voi. E tra l'altro appunto questo podcast in qualche modo è proprio un'indagine o comunque è un modo di celebrare proprio tutte queste ragioni per cui anche Casa Terini Marimò di New York era piena nel 2023 ad ascoltare un incontro su Pavese e io tornerei però alle colline che le colline dove Pavese è nato, dove è nato, dove siete nati anche voi due, dove è nato anche Andrea però forse invece che proprio noi siamo nati a Canelli perché c'era l'ospedale non c'era Santo Stesale siamo nati a Canelli abbiamo questa roba per cui sulla carta di identità c'è scritto nato a Canelli lui patisce il cielo è lo stesso dai e invece però direi invece facciamo un passaggio colline torinesi perché Andrea ha ripreso in mano il diavolo sulle colline che parte proprio invece dalle colline di Torino approfittiamo del fatto che sia un attore abbia una fantastica voce anche per chiedergli di leggere un pezzettino dell'incipit del libro e poi magari appunto ne parleremo volentieri eravamo molto giovani credo che in quell'anno non dormissi mai ma avevo un amico che dormiva meno ancora di me e certe mattine lo si vedeva già a passeggiare davanti alla stazione nell'ora che arrivano e partono i primi treni l'avevamo lasciata notte alta sul pontone Pieretta aveva fatto un altro giro e visto l'alba addirittura bevuto il caffè adesso studiava le facce assonnate di spazzini e di ciclisti nemmeno lui ricordava i discorsi della notte vegliandoci sopra li aveva smaltiti e diceva tranquillo si fa tardi vado a letto qualcuno degli altri che ci trottava dietro non capiva cosa facessimo a una certa ora finito il cinema finite le risorse le osterie i discorsi si sedeva con noi tre sulle panchine ci ascoltava brontolare o sghignazzare si infiammava l'idea di andare a svegliare le ragazze o aspettare l'aurora sulle colline poi a un nostro cambiamento di umore tentennava e trovava il coraggio di tornarsene a casa indomani costui chiedeva che cosa avete poi fatto non era facile rispondergli avevamo ascoltato un ubriaco guardato attaccare i manifesti fatto il giro dei mercati visto passare delle pecore sui corsi allora Pieretto diceva abbiamo fatto conoscenza con una donna l'altro non ci credeva ma restava interdetto ci vuole perseveranza diceva Pieretto si passa e si ripassa sotto al balcone tutta la notte lei lo sa se ne accorge non c'è bisogno di conoscerla se lo sente nel sangue viene il momento che non ne può più salta dal letto e ti spalanca le persiane tu appoggi la scala ma fra noi tre non si parlava volentieri di donne non almeno su serio né Pieretto né Oreste mi dicevano tutto di sé per questo no per questo mi piacevano le donne quelle che separano sarebbero venute più tardi per adesso parlavamo soltanto di quel mondo della pioggia del sole e tanto ci piaceva che andare a dormire ci pareva di perdere davvero tempo una notte di quell'anno eravamo in riva al po sulla palchina del viale Oreste aveva borbottato andiamo a letto accucciati lì gli avevamo detto perché vuoi sprecare l'estate non puoi dormire con un occhio solo mi emoziona di questa parte il fatto che io come penso Pierluigi ma penso tutti noi abbiamo vissuto quella gioventù per cui era sempre festa non si dormiva mai si trovava sempre il modo di contarne una e stare insieme c'è proprio una fase della vita così è la fase comunista è la fase della della condivisione perché che tu abbia avuto tanto poco hai fatto le scuole insieme ancora non si vede la differenza sociale se si vede all'epoca forse si vedeva ancora meno comunque è lo stare con gli altri che ti forma e gli altri a un certo punto sono quasi più di papà e mamma sono la tua finestra sul mondo perché comincia a provarti no? sei il giovane cervo che fa cornate con gli altri per capire qual è il suo posto nel mondo e mi piace mi ha sempre commosso questa parte perché mi ricorda anche un po' il momento quando studiavo al teatro stabile di Torino io già vivo vent'anni ventitré però insomma erano quegli anni lì in cui poi andavi in collina guardavi la città da un altro punto di vista ed erano momenti in cui le notti ti insegnavano tanto anche quanto il giorno noi veniamo dalle colline e come abbiamo già detto nel podcast mi sembra di essere un po' tutti questi tre personaggi che esistono all'inizio della storia perché se avete fatto caso c'è uno che parla ma non sai chi è non sai il nome che è quello che narra la storia sicuramente è di là di quelle parti perché la struttura di come l'ha scritto Pavese mi fa ricordare una persona delle nostre parti non parla diverso organizza il pensiero all'interno della frase come uno di noi un piemontese da capire da dove viene ma di quelle parti lì diciamo sì un cittadino comunque direi poi c'è il ragazzo che viene della campagna che si chiama Oreste anche quello siamo stati se ci scaldate un po' noi abbiamo racconti rituali incredibili cose da contadini che poi ritroverete nella vostra vita quotidiana da qui a New York e quello Oreste il ragazzo che poi in qualche modo si innamora anche perché vuole scoprire il mondo attraverso attraverso la donna che lui non può avere o non sa che lo che lo travalica e poi c'è Pieretto che è quello curioso che sembra un po' lo spaccone del paese l'amico simpatico che cerca in tutti i modi di essere il green maldello che apre porte il curiosone anche quello se vuoi è un personaggio che come dire appartiene a tutte le storie appartiene alla provincia certamente ma alla nostra adolescenza c'era sempre l'amico che spingeva avanti la storia o ti dava il consiglio che poi ti metteva nei guai e poi ti riportava fuori questi tre personaggi io penso di averli incarnati più volte in parti della vita e poi ce n'è un altro che è il diavolo sulle colline leggere forse l'incontro che era l'altro pezzettino che era esatto poco dopo vivo eh allora a un certo punto questi amici stanno camminando per la collina ci fermassimo disse Oreste ad una svolta Pieretto uscì dai suoi pensieri tanto più disse in fretta che le lepri e le bice sono ridotte sotto terra e hanno paura di chi passa l'odore che regna è la benzina dov'è più la campagna che piacerebbe a voi altri si attaccò a me selvaggiamente se qualcuno venisse sgozzato nei boschi dichiarò con quel suo tono perentorio tu davvero credi che sarebbe una cosa leggendaria che intorno al morto tacerebbero i grilli che il lago di sangue conterebbe più che uno sputo Oreste in attesa sputò con disgusto ci disse attenti viene giù una macchina comparve lenta e silenziosa una grande automobile scoperta di un pallido verde e si fermò senza un sussulto docile una metà rimase in ombra sotto gli alberi la guardammo interdetti ai fari spenti disse Oreste pensai che ci fosse dentro una coppia e avrei voluto essere lontano sul valico e non aver incontrato nessuno perché non scattavano su quella loro meraviglia verso Torino e non ci lasciavano soli nella nostra campagna Oreste disse a Capochino di muoverci presentando la macchina mi aspettavo di udire sussurri e frusci magari ridere e invece entrevi di un uomo solo al volante giovanotto riverso con la faccia stravolta verso il cielo sembra morto disse Pieretto Oreste era già fuori dell'ombra andamo sotto la voce dei grilli e in pochi passi sotto gli alberi pensai molte cose non osavo voltarmi Pieretto taceva al mio fianco la tensione divenne intollerabile mi fermai impossibile dissi quel tale non dorme di cosa hai paura disse Pieretto l'hai veduto dormiva uno non si addormenta in quel modo e sulla macchina in movimento dissi aveva ancora nelle orecchie la sfuriata di Pieretto passasse qualcuno ci voltammo a guardare la curva nera di alberi una lucciola attraversò la strada balenando come una sigaretta che brucia da sola grazie Andrea io mi permetto di citare te perché avevi fatto una descrizione di Poli bellissima nel podcast avevi detto Poli è una persona profonda intelligente che sente la vita la sente forse più degli altri per certi versi e parlando di un dolore che in qualche modo forse non riusciva a terrare fuori hai detto ha una grande fortuna chi riesce a confrontarsi anche con un certo dolore anche con un certo dolore che passa attraverso l'esperienza della propria famiglia o quelli prima ancora chi riesce a confrontarsi con questo dolore riesce a non buttarlo fuori di sé e non ne diviene dipendente altri invece questo dolore lo nascondono a se stessi lo reprimono lo soffocano attraverso usi abusi e quello è Poli secondo me e poi hai detto di aver appunto incontrato anche tanti Poli nella tua vita quindi volevo chiederti un po' se hai voglia di riprendere questo tuo incontro con Poli è stato molto delicato fare il podcast perché quando tu nella tua vita nomini una cosa poi devi stare attento perché potrebbe anche arrivare in quei giorni un mio caro amico un ragazzo delle nostre parti con cui siamo cresciuti mi aveva chiamato mi aveva raccontato che le cose non andavano esattamente bene che insomma è una persona cui voglio molto bene e stava molto soffrendo come vedete mi si trasforma subito la voce perché gli voglio molto bene ed è rimasta questa ferita dentro alla voce nel podcast quando l'ho sentito mi ha preso un colpo ce l'avevo proprio spezzata non riuscivo bene a parlare perché è così e bisogna avere il coraggio un po' di affrontarle queste cose noi le abbiamo dentro e forse questo è uno dei segreti per cui Pavese piace e i ragazzi lo sentono vicino perché non è facile sempre e prima si diceva dietro le quinte sai c'è un libro che di Pavese io non riesco a leggere che è il mestiere di vivere perché quando lo leggo e magari devo preparare la luna di Falò io mi incazzo proprio con questa voce che lui ha dentro la sento proprio questa voce che gli dà contro o con questa sofferenza con la quale lui combatte ma mi è sempre piaciuto molto la risposta che ha sempre dato Pavese piccolo spoiler da Piemontese qualcuno di voi capirà il mestiere di vivere io l'ho sempre letto molto di più da contadino che da studente da intellettuale e il mestiere vivi vuol dire il bisogno di vivere quando tu dici hai un mestet una roba nel nostro paese significa ho bisogno di quella roba passa perché ho bisogno di quella roba hai un mestet vuol dire quello il bisogno di vivere che è cruciale in tutti questi personaggi è più forte in Poli perché Poli a differenza degli altri non ce l'ha automatico come spero tutti noi è uno che se lo deve andare a cercare e spegnere è uno a cui proprio gli è sballata la cosa a volte ce l'ha fortissimo e si sente un Dio e parla di Dio o con Dio o è e a volte c'è la sottoterra e chiama Dio e cerca di spegnere questo disequilibrio quindi io lo sento molto vicino perché nella vita mi è capitato di avere questi descuidibri ma poi anche altri miei affetti persone care hanno avuto questa cosa mi sembrava onesto quando mi hai chiamato per questo e non per altre cose dirlo perché so di tanta gente che combatte con delle difficoltà possono essere malattie mentali difficoltà profonde dell'esistenza non per forza cose cliniche però profonde e Poli che sembra esagerato oppure Poli è quella lucciola che arriva e sembra una sigaretta che brucia nella notte una fiamma che brucia più velocemente delle altre tu te ne accorgi ed è anche molto affascinante infatti io avevo una affascinazione io avevo una affascinazione totale per questo mio amico che ha vissuto tanto è anche un po' più grande di me e mi sembrava il Poli io andavo a casa sua e mi sembrava di essere come lì quando andavano loro al greppio devo ammettere che la lettura di questo libro mi ha dato anche un pochino più le chiavi per avere a che fare con questa necessità di avere a che fare con gli assoluti perché di questo secondo me si tratta cioè il diavolo è il diavolo per una cultura cristiana ci deve essere una cosa e poi ci deve essere quell'altra ma anche il diavolo ha una necessità di assoluto ha un bisogno di vivere tutto suo le cose che noi sopprimiamo o bussano da dentro da un posto molto scuro o cerchiamo comunque o rientrano da altre parti se noi le sopprimiamo tante volte no pensate a questo bambino no lui vive e fa quello che gli viene se glielo impediamo cercherà di fare qualcos'altro è nella sua natura ed è la nostra natura noi siamo questa cosa qui tutte le cose che Pavese racconta sono nelle persone che hanno grande voglia di vivere lo abbiamo detto più volte addirittura è rimasto tre volte dentro al podcast bisogno di vivere voglia di vivere cercano disperatamente di vivere è una grandissima lezione e questi personaggi sono veri sicuramente ma hanno si appoggiano su una sapienza su una conoscenza su una ricerca che a noi può ancora dare tantissimo perché ci affratella le persone che sembrano insopportabili ci rende più forti con le nostre fragilità non ci dice di scappare ci dice di affrontarla e ci consegna la penna secondo me mortale di una persona mortale che ha combattuto fino a che poteva e che combatte ancora adesso ci insegna come fare trovo meravigliosa che non ci avevo mai pensato quella cosa del verrà la morte fra i tuoi occhi perché mi hai veramente portato in un'altra dimensione pensando che lui non sta parlando ad una donna come tutti noi che abbiamo portato il provino anche lo stabile di Torino sono stufi di sentire Pavese era morto avrai i tuoi occhi o Montale ho sceso dandoti la mano un milione di scale tutti recitiamo quello perché tutti i ragazzi sentono quella cosa lì non avevo mai pensato che lui parlasse di se stesso e c'entra molto se tu lo pensi così e inverte completamente il significato di quella poesia è meraviglioso perché noi guardiamo noi stessi quando guardiamo negli occhi di Poli e Poli è quella parte di noi che brucia molto velocemente e non vorrebbe stare così ma gli è toccato di essere così e io ho molto amore per chi ha il coraggio di esporsi così grazie Andrea grazie mille poi lasciamo giustamente spazio a Giulia ma io stimolo te tu stimoli me il diavolo sulle colline detto così e guardato da questo punto di vista e qui andiamo di nuovo verso un altro mito a me molto caro è il minotauro cioè il diavolo sta sulle colline il minotauro sta all'interno del labirinto ma se noi riusciamo a fare come ha fatto Tesio che è arrivato al centro di questo labirinto scopriamo come ci racconta Borges ad esempio nella casa di Asterione che quel minotauro lì non è violento non è cattivo è semplicemente vittima della sua mostruosità e noi se riusciamo a guardarlo negli occhi se abbiamo l'umiltà di non ucciderlo e infatti se vediamo il mito letto da Catullo nel Carme 64 se non sbaglio che ci parla di un Tesio che dopo l'uccisione del minotauro è immemore dimentico dell'amore per Ariane dimentico del fatto di cambiare le vele quindi arrivare a casa e questo suo dimenticanza causa l'uccisione del suicidio del padre se abbiamo il coraggio di smettere la nostra armatura le nostre armi e quindi di sederci di fianco di fronte a questo minotauro guardarlo negli occhi allora a quel punto capiamo qualcosa di noi stessi il minotauro diventa uno specchio il diavolo sulle colline è uno specchio verrà la morte dentro gli occhi un altro specchio dove lo scrittore vede se stesso dove ognuno di noi vede se stesso tra l'altro scusate mi è venuto in mente perché adesso mi aggancia questa cosa che dicevate di verrà la morte avrai i tuoi occhi che Michele Mari molti 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 anni dopo riprende cita Pavese in Cento Poesie d'Amore a Lady Hawk e scrive una poesia che dice così verrà la morte avrai i tuoi occhi ma dentro ci troverai i miei quindi restituisce questa cosa meravigliosa in realtà alla poesia di Pavese scritta 50 anni prima più di 50 anni prima il suo significato e questa cosa è grandiosa ecco giusto grazie anche di questo di questa aggiunta e questa idea dello specchio in effetti è proprio quello che abbiamo cercato di creare proprio nei dialoghi con gli autori che abbiamo che abbiamo coinvolto nel podcast adesso ascolteremo una clip dalla puntata con Di Martino sulla luna e falò devo dire che l'effetto specchio insomma di entrare dentro è funzionato così bene che durante l'intervista io mi sono anche commossa e quindi ascoltiamo cioè io quando adesso cammino nel mio paese comunque ci rivedo gli stessi alberi nella piazza del mio paese ci sono gli stessi alberi di quando io ero adolescente che è qualcosa nella luna e falò no? c'è quest'idea degli alberi come Stargate quasi cioè l'albero di noce diventa nella luna e falò quasi una porta cioè lui attraverso l'albero di noce ritorna al passato ed è una cosa che comunque mi ha sempre affascinato un paese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via è la frase che più di tutta è rimasta scolpita nella memoria del romanzo di Cesare Pavese La luna e i falò ed è anche il ritornello della canzone Le montagne di Di Martino contenuta nel suo album del 2015 che si intitola proprio Un paese ci vuole a un certo punto ho detto vabbè metto tutta la frase di Pavese che comunque è potente è potentissima è immediata se ci pensi come frase ed è immediata per chi vive nei paesi proprio arriva come una una coltellata cioè qualcosa che Pavese ha e che quando andava a scuola non riscontravo in altri in altri autori del novecento era questa immediatezza è veramente quasi cattiveria che è qualcosa che avevano i cantautori per me cioè nel senso lo assimilavo tantissimo a Tenko alla sfrontatezza di Tenko di frasi come mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare potrebbe essere benissimo una frase di Pavese o a dischi di De Andrè come indiano come studiare un impiegato dove c'erano delle frasi che comunque erano molto pavesiane quindi diciamo che i cantautori in generale a Pavese secondo me devono tantissimo non fosse che per quel verso di Alice e di De Gregori in cui c'è Cesare perduto nella pioggia e sta aspettando da sei ora il suo amore ballerina è proprio Cesare Pavese grazie a Giulia abbiamo il privilegio la fortuna di poter restare nel tema musicale nel mondo musicale perché una delle domande che ti abbiamo fatto durante l'intervista era qual è la colonna sonora del romanzo che hai letto riletto per questo podcast che è Paesi tuoi e ci hai dato una risposta bellissima e quindi ti chiederei di condividerla qua e poi se vuoi anche commentare quello che ha detto di Martino adesso che sicuramente è insomma nelle tue corde come si dice anzitutto grazie a voi di essere qua e grazie dell'invito quando Pierluigi e io abbiamo fatto un colloquio di lavoro al telefono per questo podcast io mi sono immediatamente ricordata di un libro che avevo trovato molti anni fa in una libreria di Roma che si chiamava ritratto inconsueto di Pavese allegro e io c'era questa foto in copertina di Pavese che sorrideva e io mi immaginavo queste persone oddio come la troviamo una foto di Pavese che ride in realtà ci sono le foto di Pavese che ride e quel libro era anche un bel libro perché poi me lo sono andata a rileggere dopo aver parlato con Pierluigi il paragone con Tenko è calzantissimo ma non per il bieco motivo che molti penserebbero non il suicidio ovviamente Tenko era un cantautore è stato un cantautore vitalissimo di cui noi conosciamo una produzione che è famosa per una produzione musicale legata moltissimo al tema amoroso e a quel mondo diciamo drammatico a quella tematica sempre un po' legata a quella che viene malamente chiamata tristezza in realtà il songbook di Luigi Tenko è ricchissimo di canzoni politiche di canzoni sui giovani sulle donne Tenko credo che abbia scritto il primo brano femminista della storia della canzone italiana che si intitola giornali femminili ha scritto canzoni sulla vita sociale sulla relazione con gli hobby quindi con la ricchezza e con la povertà col poter vivere di ciò che si ama e di ciò che invece deve diventare necessariamente il nostro lavoro aveva un progetto Tenko che non ha potuto portare che non è riuscito a portare a termine che era un progetto di come dire sovversione rivoluzione della canzone in italiano dove non voleva che si parlasse più così tanto e solo d'amore e solo di dolore ma di tematiche che riguardavano la realtà il reale il reale dei giovani in quel periodo storico che si avviava naturalmente a quello che poi sarebbe stato il 68 questo è un punto di paragone immenso dal mio punto di vista tra i due posto che come dice Di Martino un verso come due versi come mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare sembrano effettivamente rubati al mestiere di vivere questo dal dal mio punto di vista per quanto riguarda il la mia scelta rispetto alla colonna sonora di Paesi Tuoi allora Paesi Tuoi è una sorta di breve romanzo o lungo racconto nero definirei fiaba oscura fiaba nera storia di formazione black black totalmente per cui io istintivamente devo dire proprio non mi sono minimamente preparata quando tu mi hai chiesto cos'è un disco che ti viene in mente a me è venuto in mente un disco di Nick Cave del 1996 che si chiama murder ballads le murder ballads sono un genere poetico che è diventato poi un genere della canzone folk antichissimo che viene dal medioevo e ha attecchito moltissimo ovviamente nel mondo anglosassone in particolare devo dire in Gran Bretagna e le storie che racconta e che canta Nick Cave tra l'altro con un registro molto variegato in cui Nick Cave a un certo punto in alcuni momenti sembra recitare in altri sembra leggere in altri momenti invece sembra un crooner quindi un cantante degli anni 50 sono tutte storie che diciamo raccontano di omicidi di storie nere misteriose soprattutto tra familiari tra persone molto unite diciamo nella loro realtà quotidiana c'è addirittura il brano che apre le murder ballads che parla proprio di questo di questa storia di quest'uomo che uccide insomma che va a casa di una donna e uccide questa donna e i suoi figli tu all'inizio pensi che sia il marito di questa donna che racconta di come sua moglie e i figli sono stati uccisi ma mentre la canzone va avanti a un certo punto tu ti accorgi che la persona che ti sta cantando queste cose forse è l'assassino ecco ci sono delle questioni allora anzitutto Paesi tuoi è diciamo al suo interno proprio una storia nera che sta in famiglia e questo è un grosso tema perché apre a una questione che nell'adolescenza è come dire centrale cioè la relazione con la famiglia con l'alterità cioè con quello che c'è fuori dalla famiglia e questo è trattato attraverso una lente che è sempre presente nei romanzi pavese che è l'amicizia perché è attraverso ciò che tu conosci andando fuori dalla famiglia che poi ti relazioni ai meccanismi diciamo interni e poi il discorso delle voci narranti cioè Berto no che è diciamo colui che ci racconta la voce narrante di questo di questo romanzo è anche è anche pavese e la critica si è molto spesa su questo su questo tema e questo gioco di prospettive che c'è spesso nei romanzi di pavese c'è tantissimo e di prospettive di chi sta parlando e di ciò che è invece protagonista di chi è protagonista del racconto che viene fatto esiste molto anche nelle murder ballads e quindi a me questa così diciamo distinta è venuto in mente questo romanzo ma pavese è io sono molto emozionata per me ma a me pavese ha cambiato la vita e essere qui a Torino con voi a parlarne è veramente una delle cose più commoventi che ho fatto e che sto facendo però pavese è legatissimo alla musica e ha cambiato io credo il modo di concepire il concetto di canzone in Italia c'è una canzone anche in in lavorare stanca ma non è l'unica poi ma pavese soprattutto vabbè non è un caso Massimo Mila a un certo punto che è un musicologo importantissimo che ha scritto storie della musica pubblicate da Einaudi varie edizioni varie diciamo prospettive di storia della musica a un certo punto cura lavorare stanca mi correggerà anche Pierluigi se mi sbaglio in questo caso ma e quindi la musica in realtà c'è nella misura della poesia naturalmente io mi ricordo che quando ero molto giovane leggevo Pavese nelle sale d'aspetto dei dentisti quando ti porti i libri ovunque sei un ragazzino e non puoi pensi che non potrai mai separarti da quella cosa perché è la tua scoperta io mi ricordo che li cantavo cioè mentre leggevo lavorare stanca mi sembrava di cantare ed è una cosa che non mi è mai più capitata in quel modo succede con Montale per esempio non è un caso che i grandi nomi i grandi autori che veramente hanno creato anche nei giovani un gancio enorme siano tutti estremamente connessi al discorso proprio metrico anche musical e poi mi ricordo che la cosa incredibile è che anche la prosa di Pavese canta e canta nella misura in cui è è una prosa lirica che è una canzone il paese tuo inizia con questa frase cominciò a lavorarmi sulla porta è un verso poetico a tutti gli effetti ma è a qualcosa di sonoro c'è sempre c'è un suono c'è un suono quindi secondo me il lavoro tra la musica e Pavese potrebbe essere veramente è sconfinato ma poi insomma ne parleremo del festival però hai nominato più volte lavorare stanca e anche durante la nostra intervista e allora volevo ancora magari chiederti quali sono le connessioni forti che hai trovato con questo testo che avevi in testa come allora sì perché di questo ma allora anzitutto Paesi tuoi che cos'è è l'esordio alla narrativa di Pavese viene scritto in un'estate insomma l'avete letto chiunque l'abbia letto sente che è scritto d'estate nell'estate del 39 tra giugno e agosto del 39 esce poi nel 41 tutti parlano di romanzo neorealista nella prefazione anche qua Pierluigi mi fa da check del sentiero dei nidi di ragno Calvino dice lo annovera tra le ispirazioni del nuovo romanzo neorealista secondo me in modo più devo dire interessante c'è chi invece dice e qua ci ricolleghiamo agli Stati Uniti che c'è l'America in questo romanzo c'è la la fascinazione per esempio data dal fatto che Pavese in quel periodo poco tempo prima aveva tradotto tra l'altro vabbè giovanissimo da piangere Uomini e Topi di Steinbeck e questa cosa e se voi avete letto Uomini e Topi di Steinbeck e leggete Paesi Tuoi questa cosa secondo me è evidentissima cioè è una connessione pura direi quindi neorealista sì e qua torno a Calvino perché Calvino dice sì neorealista ma nei suoi saggi a un certo punto dice è neorealista perché noi in quel momento volevamo fare una rivoluzione letteraria che mettesse in connessione la nostra grande passione per la letteratura con la nostra grande passione per quello che stava succedendo nella realtà e per un giovane la realtà che cos'è? stare cercare di capire come collocarsi tra qualcosa di tradizionale che gli è stato insegnato e qualcosa di estremamente nuovo e loro stavano facendo nella letteratura esattamente questo quindi inevitabilmente volevano provare a farlo anche nella vita però secondo me c'è qualcos'altro cioè secondo me a lavorare stanca c'entra perché allora anzitutto lavorare stanca nella sua esce per una casa editrice fiorentina diciamo nella prima edizione ma poi riesce nel 43 per una casa editrice per Reinaudi e viene diciamo accresciuto di alcuni testi quindi c'è una concomitanza di lavorazione tra Paesi tuoi e lavorare stanca e c'è una concomitanza di temi uno dei almeno di due li accenno uno è la grande questione di Pavese cioè la il dualismo il vinile a due facce il lato A e il lato B della campagna e della città della relazione del giovane soprattutto informazione con il luogo di provenienza e l'approdo alla città città che per Pavese era la letteratura naturalmente c'era il suo sogno di scrittore e poi un altro discorso è la relazione della donna tra la donna il racconto di una donna vista come madre natura anche in qualche modo la descrizione della protagonista della vera protagonista di Paesi tuoi che è straordinaria cioè Gisella a un certo punto Pavese la mette in relazione a delle mele è la natura ha il sangueschietto è la purezza della natura rigogliosa anche nella morte anche nel male anche nel dolore è rappresentazione di purezza questi due temi un modo di raccontare la donna è molto vitale molto vitale e vitalistico e la continua relazione tra il luogo da cui si proviene e quello a cui si approda e l'interscambio tra questi mondi sono due tematiche molto presenti per cui secondo me Paesi tuoi e lavorare stanca si parlano tantissimo ora io non faccio l'attrice quindi mi scuserà Andrea se però mi hai dato un compito proverò ad assolverlo male perdonatemi adesso pensieri di Deola vorrei leggervi solo le poesie dedicate alle donne di questo di questa raccolta perdonatemi davvero Deola passa il mattino seduta al caffè e nessuno la guarda a quest'ora in città corron tutti sotto il sole ancora fresco dell'alba non cerca nessuno neanche Deola ma fuma pacata e respira il mattino finché è stata in pensione ha dovuto dormire a quest'ora per rifarsi le forze la stuoia sul letto la sporcavano con le scarpacce soldati e operai i clienti che fiaccano la schiena ma sole è diverso si può fare un lavoro più fine con poca fatica il signore di ieri svegliandola presto la baciata è condotta mi fermerei cara Torino con te se potessi con sé alla stazione augurargli buon viaggio è intontita ma fresca stavolta e le piace essere libera Deola e bere il suo latte e mangiare brioche stamattina è una mezza signora e se guarda i passanti fa solo per non annoiarsi a quest'ora in pensione si dorme e c'è puzza di chiuso la padrona va a spasso è da stupite stare là dentro per girare la sera ai locali ci vuole presenza e in pensione a trent'anni quel po' che ne resta si è perso Deola siede mostrando il profilo a uno specchio e si guarda nel fresco del vetro un po' pallida in faccia non è il fumo che stagni corruga le ciglia ci vorrebbe la voglia che aveva Marie per durare in pensione perché cara donna gli uomini vengono qui per cavarsi capricci che non glieli toglie né la moglie né l'innamorata e Marie lavorava instancabile piena di brio e godeva salute i passanti davanti al caffè non distraggono Deola che lavora soltanto la sera con lente conquiste nella musica del suo locale gettando le occhiate a un cliente o cercandogli il piede le piacciono le orchestre che la fanno parere un'attrice alla scena d'amore con un giovane ricco le basta un cliente ogni sera e ha da vivere forse il signore di ieri mi portava davvero con sé stare sola se vuole al mattino e sedersi al caffè non cercare nessuno grazie Giulia grazie mille e se mi permetti cito anche te per chiudere questa questa discussione poi ascolteremo ancora un pezzettino del podcast ma ti cito su perché quando abbiamo fatto anche a te la domanda che abbiamo fatto a tutti perché secondo te Pavese è uno scrittore ancora così che continua a essere così amato dalle giovani generazioni quando ho sentito la tua risposta io ho avuto proprio quella sensazione che quando intervisti qualcuno che dice proprio quello che mi ricordo che dicevo sì sì proprio questo e quindi adesso ti cito hai detto perché soffre come un cane e in quella fase della vita hai bisogno di empatizzare con qualcuno che ti sembra soffrire di mali atroci perché l'adolescenza è un tempo di atrocità emotiva e poi hai detto Pavese soffriva pieno sapeva soffrire i giovani hanno bisogno di una mano e vedere qualcuno che soffre così bene qualcuno che ti insegna che si può soffrire bene che soffrire è una cosa della vita confermo quindi per chiudere ascolterei ancora una piccola una breve clip da un'altra puntata del podcast quella in cui abbiamo coinvolto Nicola la gioia il romanzo è tra donne e sole e in questo caso la sua risposta cioè quello che ascolterete non ha a che fare direttamente con il romanzo ha a che fare con il suo amore per Pavese è un aneddoto che abbiamo trovato tutti molto divertente e quindi è un buon modo credo per chiudere questo incontro abitavamo proprio in un appartamento che potrei definire kafkiano ma perché era il viale abrut 64 mi ricordo ancora il numero civico dico kafkiano perché era attraversato da molti scarafaggi uno dei quali poteva essere la reincarnazione di Gregor Samsa quando aveva 20 anni Nicola la gioia abitava a Milano viveva con un suo caro amico Andrea Piva come lui pugliese oggi scrittore e sceneggiatore ed è con lui in quell'appartamento che ha conosciuto Cesare Pavese all'epoca eravamo degli spiantati senza un soldo in tasca che ci trasferimmo a Milano per provare a lavorare nell'editoria ecco quindi forse se avevamo in quel momento un riferimento per le nostre condizioni forse non era tanto Pavese quanto Bianciardi anche se tra i nostri piani non c'era quello di far esplodere il pirellone ma quando cominciamo a leggere di Cesare Pavese appunto mi ricordo che erano le poesie di lavorare stanca poi la bell'estate il trittico e tutto quanto il resto sentimmo questa voce molto vicina era molto vicina perché era molto dolente era molto vicina perché oltre ad essere dolente era molto vera ecco voi immaginatevi due ragazzi arrivati a Milano Nicola e Andrea che trascorrevano le notti a leggere ad ascoltare la voce di Cesare Pavese vista le strade che hanno poi intrapreso quell'immagine pare assolutamente sensata ma al tempo in determinate situazioni poteva ancora sembrare una scelta bizzarra una volta invitammo due ragazze a casa due ragazze con cui era quasi chiaro che stesse nascendo qualcosa ma loro arrivarono quando noi non avevamo ancora finito ci eravamo proposti di finire avevamo presissimi appunto lavorare stanca che leggevamo ad alta voce e a volte proprio ripetevamo ad alta voce l'un l'altro e mi ricordo che loro vennero a casa noi cucinammo per loro dopodiché si era creato un clima per cui sarebbe stata la cosa più naturale e anche l'aspettativa di queste ragazze che ci ritirassimo con loro o ognuno nella propria stanza e invece noi io e Andrea dicemmo a queste ragazze diciamo ragazze ci dispiace la serata finisce qui perché noi ci siamo proposti di finire entro domani mattina lavorare stanca e quindi queste in maniera proprio erano sbigottite furono praticamente messe alla porta e poi ci hanno preso in giro per i mesi e per gli anni successivi poi le abbiamo perse di vista e quindi a distanza di anni forse io vorrei chiedere scusa per essere stati così poco galanti ma forse come dire vorrei un po' chiedere scusa e un po' anche dare la colpa che sa prenda anche la sua parte di colpa a Cesare Pavese grazie io direi che possiamo chiudere qui questo incontro vi ringrazio tantissimo per per la vostra presenza soprattutto per aver messo così tanto cuore in questo in questo dialogo e ringrazio tantissimo voi per per essere qui ancora e a presto grazie